Spalti, gremiti da genitori, dirigenti, tecnici e semplici appassionati di pattinaggio hanno fatto da cornice al lungo weekend del pattinaggio artistico a rotelle targato WISP Genova. Grande successo anche nel 2018 per i tradizionali gioca pattino e trofeo principianti, le due manifestazioni che il Comitato di Genova organizza ogni anno nel mese di aprile al pattinodromo di Villa Gavotti, sempre con la preziosa collaborazione dell'associazione sportiva Moonlight Skating. Oltre 400 gli atleti delle associazioni sportive WISP che si sono alternati in pista, soprattutto giovani e giovanissimi che proprio attraverso il gioco pattino si misurano in chiave ludica con le prime difficoltà e i primi movimenti didattici di questa spettacolare disciplina. Protagoniste della domenica sono state invece le prove del trofeo principianti, riservato agli atleti dagli otto anni in su, impegnati durante la stagione anche in altre manifestazioni WISPine. Dai balletti individuali, con salti, trottole e passi di piede, agli esercizi obbligatori, anche la seconda giornata si è conclusa poi con le premiazioni, con il coordinatore del settore pattinaggio Michele Pellini, che ha consegnato a tutti gli atleti la Coppa Ricordo della manifestazione, oltre che un riconoscimento speciale alle prime tre società classificate. Dopo una breve pausa, il settore pattinaggio tornerà protagonista a maggio con le fasi finali regionali che vedranno gli atleti genovesi confrontarsi con i propri coetanei degli altri comitati territoriali liguri, sotto il coordinamento della responsabile pattinaggio WISP Liguria, Alessandra Pattarozzi.